Salve unici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui di uno Football Manager 2019 con il nostro mitico Milan e oggi andremo a parlare ovviamente di calcio mercato. Sono riuscito a prendere quelle due pedine che ci servivano per migliorare ancora di più la squadra, le pedine di cui già vi ho parlato nello scorso episodio, ci serviva assolutamente un esterno sinistro, avendo venduto già Bonaventura e Castiglieco e avendo preso solamente Insigne, e in più volevo prendere anche un difensore centrale per migliorare ancora di più quel reparto e per affiancare al Romagnoli un difensore veramente molto molto forte al suo livello, insomma. E poi vabbè Caldara sarà la prima alternativa. Per quanto riguarda le amichevoli, abbiamo vinto 9-0 contro il Giubiasco, abbiamo fatto una goleata, 2-0 contro il Porto, gol di Aubameyang e Gomez. Poi ho organizzato altre amichevoli ovviamente contro il Monza obbligatorio, contro il Leicester, una partita un po' più difficile insieme a quella con il Porto, poi Nerviano e Brera. E poi già ovviamente nel prossimo episodio andremo a vedere la partita contro il Real Madrid di Coppa Europea. Era un po' di Supercoppa Europea ovviamente. Era un po' indeciso se farvi vedere o meno questa partita già oggi, ma gli acquisti che ho fatto sono importantissimi. La partita contro il Real è importantissima e proprio per questo ho deciso di scendere. E poi vediamo, insomma. Ovviamente le altre partite di campionato ve le salterò, vedremo probabilmente la partita con l'Inter, forse le esordi in Champions League, vediamo anche chi becchiamo. Ripeto, cercherò di fare questa stagione il più velocemente possibile. Oltre gli acquisti, ovviamente ci sono state parecchie cessioni. C'erano diversi giocatori dell'Under 20 che volevo mandare via, fra cui quelli che sono tornati dal prestito. E lo stesso ho mandato in prestito molti giocatori dell'Under 18, ma quelli li andremo a vedere dopo, perché sono tipo 30-40 giocatori, non me li ricordo a memoria. Andremo direttamente a vedere la lista. Quello che dico, ragazzi, questo mercato l'ho fatto per divertirmi. L'ho fatto per creare una squadra fortissima. Ho cercato di creare una rosa che potesse giocare bene la Champions League, che potesse fare bene in Champions League. Ora non so dove riusciremo ad arrivare, ma ho cercato di creare un'armata, anzi due armate, due squadre che possano fare faceli sia in campionato che in Champions League. Ma per fare questo, ma per creare una squadra quasi imbattibile, ma ovviamente non è imbattibile, tante squadre ci possono ancora abbattere, ho dovuto spendere un sacco di soldi. Quindi per una volta lasciatemi la possibilità di spendere un botto. Già vi dico che abbiamo speso un mezzo miliardo di euro, un botto di soldi, anche se comunque le gestioni sono state parecchio remunerative, quindi abbiamo speso, sì, 500 milioni, ma abbiamo anche guadagnato 300 milioni. Poi abbiamo avuto 200 milioni dalla dirigenza, abbiamo avuto i soldi dalla Champions League, molti degli acquisti che abbiamo fatto sono a rate, e proprio per questo, insomma, questo mercato è stato possibile. Non mi fate il discorso delle finanze, non mi fate il discorso che ho speso troppo. Abbiamo fatto 5 anni di parametri zero e prestiti per una carriera, dico una, concedetemi il fatto che mi sono voluto sbizzarrire, ho voluto spendere un sacco di soldi, ma per costruire una squadra veramente forte. Quindi sì, ho speso tanto, ma in modo, secondo me, intelligente. Come già vi ho detto nello scorso episodio, la prossima carriera sarà con una squadra scarsa, con un budget bassissimo, quindi, già, ripeto, nella futura carriera, ci concentreremo sui parametri zero e sui prestiti. Per non fare cose troppo ripetitive, ho preferito, insomma, variare un po', e comprare giocatori veramente interessanti. Proprio per questo vi dico già che il primo giocatore che vi mostrerò l'abbiamo pagato 95 milioni. Sono un sacco di soldi per un difensore centrale, me ne rendo conto, ma io volevo una bestia lì dietro, volevo un giocatore fenomenale, un giocatore che possa essere di livello internazionale, quindi potevo prendere, che ne so, un Manolas, un Rudiger a 30-40 milioni, ma no, volevo il meglio per questo Milan, concedetemelo almeno nel gioco, visto che difficilmente vedremo questi giocatori nella realtà, e ho preso Laporte dal Manchester City. Ripeto, pagato un botto di soldi, 95 milioni a rate, 40 subito e 55 in tre anni, e un giocatore, ragazzi, mostruoso, veramente non c'è nulla da dire su di lui, fisicamente tanta tanta roba, un metro e 91, veloce, massima elevazione, forza, integrità, resistenza, mentalmente è un signor giocatore, ma ragazzi, a me quello che stupisce di Laporte è la tecnica. Sono le qualità tecniche, sono da centrocampista, da regista, veramente può fare il mediano, il centrocampista, per le qualità ovviamente, non è di ruolo, non lo metteremo mai a fare l'Emre Can della situazione, ma per le qualità che ha, potrebbe farlo senza troppi problemi. Colpo di testa, contrasti, controllo palla, cross, dribbling, marcatura, passaggi, tecnica, insomma, è un giocatore veramente bestiale, per questo abbiamo pagato tanto, nella carriera con Lecce, se non sbaglio, Laporte è stato pagato 110-120 milioni dal Barcellona, se non sbaglio, ora non mi ricordo, ma comunque è stato comprato a parecchi soldi, e proprio per questo io sono contento così, ripeto, so che abbiamo speso tanto, però volevo un difensore centrale fortissimo, ne ho valutati tanti, fra cui Cullibaly, ma Cullibaly ci costava 150 milioni, stavo per prendere prima di Laporte Van Dijk, Van Dijk per 85 milioni, quindi 10 milioni in meno rispetto a Laporte, ma purtroppo, il Liverpool aveva accettato, Van Dijk aveva accettato ben 15-15 milioni di ingaggio, ma purtroppo, al momento dell'ufficializzazione, Van Dijk ha accettato il rinnovo con il Liverpool, e ci ha, insomma, ci ha mandato a quel paese, non è voluto venire da noi, però ragazzi, sicuramente Laporte è dello stesso livello, è forte come Van Dijk, sono due giocatori eccezionali, l'altra alternativa a Laporte era Marquinhos, però ripeto, a me Laporte piace un sacco, un difensore bestiale che insieme a Romagnoli fanno un duo difensivo veramente spaziale. Per quanto riguarda l'esterno, stavo facendo una pazzia, veramente una pazzia enorme, offerto, avevo offerto 80 milioni cash e 110 rateizzati, quindi 190 milioni complessivi per Mbappé, Mbappé che aveva anche accettato l'offerta dell'ingaggio di circa 19 milioni, un'offerta ragazzi mostruosa, che ci potevamo comunque bene o male permettere grazie alle rate, grazie comunque ai vari soldi che abbiamo, visto che comunque abbiamo guadagnato un sacco e tutti i giocatori che abbiamo preso prima li abbiamo pagati a rate, però, lo stesso discorso di Van Dijk, al momento dell'ufficializzazione accetta il rinnovo del PSG e a noi ci manda a quel paese, quindi pure Mbappé purtroppo è saltato, ero sicuro di prendere sia Van Dijk che Mbappé già stavo gridando al miracolo, ma purtroppo entrambi hanno rifiutato, quindi, piano B, un piano B un po' più anzianotto, vabbè, ha 28 anni il giocatore che abbiamo preso, giocatore che nella realtà è seguito fortemente dal Real Madrid, giocatore del Chelsea, sto parlando di Eden Hazard, pagato 111 milioni di euro, c'è niente a dire ragazzi, sulla fascia sinistra abbiamo Lorenzi Insigne e Hazard, mica pizza e fighi, paghiamo 16 milioni di ingaggio, un sacco di soldi veramente, ha chiesto tante cose, voleva addirittura essere vice capitano ma almeno quella io l'ho tolta, ha voluto un miglioramento dello staff, ha voluto un miglioramento nella fase difensiva, per fortuna l'ho accontentato subito prendendo la port, ha voluto un aumento dell'ingaggio, infatti prende 16 milioni, ne voleva 24 ma poi gli ho dato un bel po' di bonus ragazzi, bonus importantissimi e poi voleva la maglia numero 10 maglia che ovviamente gli ho dato subito ragazzi, che c'è da dire? fascia sinistra Insigne Hazard fascia destra Chiesa Suso quindi insomma avete capito che questo Milan è veramente nel gioco purtroppo solo nel gioco fortissimo su Hazard raga ovviamente non c'è nulla a dire fisicamente è un mostro mentalmente tanta tanta roba tecnicamente alzo le mani controllo di palla dribbling 20 finalizzazione passaggi rigori tecnica tiri da lontano 11 insomma è un giocatore veramente assurdo è un fenomeno è un mostro vale tutti i soldi spese alla fine anche nella realtà tanto costa anche perché comunque 111 milioni pagati a rate e sono veramente contentissimo di questo acquisto un giocatore fantastico e vi faccio vedere la rosa finale perché non credo ci saranno altri colpi ragazzi potremmo migliorare qualcosa altro a centro campo ma già abbiamo Savic e Emre Chan ci abbiamo Kessi ci abbiamo Ramsey ci abbiamo anche Paketa che può giocare a centro campo quindi abbiamo un sacco di alternative e quindi proprio per questo non credo di spendere altri soldi perché in teoria per il momento i giocatori che abbiamo non hanno più mercato non c'è nessuna squadra che ci fa offerte enormi almeno per il momento quindi i soldi che ci sono rimasti circa 60 milioni un sacco comunque ripeto perché tutti gli acquisti sono stati fatti a rate l'iter o per gennaio credo che molto probabilmente farò così a meno di qualche mega occasione di mercato ma non credo che ce ne saranno e comunque la squadra è questa raga Donnarumma secco Gaspar Conti già ve l'ho fatta dire Romagnoli Lengleca Aldara Laporte Emerson Rodriguez Savic Ramsey Chan Kessi Chiesa Suso Hazard Insigne Paketa Luis Alberto Aubameyang Gomez e Patrick Cutrone sono ancora un po' indeciso sul da farsi per Mustafi aspetterò ancora un po' qualche giorno tanto possiamo terminare il prestito fino a che non finisce il mercato aspetto anche ancora i vostri consigli e però ragazzi direi che la squadra è stata fatta è veramente fortissima e io spero ovviamente che vi possa far piacere questo mercato per quanto riguarda le cessioni quella più remunerativa è stata quella di Gustavo Gomez l'abbiamo venduta a 6 milioni e mezzo a Levante ne valeva circa 10 però ragazzi questa è stata l'unica offerta e quindi l'ho voluto comunque vendere perché è un giocatore praticamente inutile avendo comunque Mustafi addirittura come quinta scelta e poi ho mandato via un sacco un sacco di giocatori in prestito perché comunque praticamente sono inutili anche Plizzari ha chiesto di essere mandato via e di essere mandato in prestito e l'ho accettato insomma è inutile tenerlo senza mai farlo giocare comunque abbiamo Donnarumma e Caio Secco che sono due ottimi portieri poi abbiamo venduto tanti giovani che erano praticamente inutili siamo riusciti a mandare in prestito anche Simic che è un altro giocatore che veramente serve a poco e nulla non ve li mostro tutti ragazzi che se no facciamo notte però vi dico solamente che Simic è andato al Parma e il Parma addirittura paga tutto l'ingaggio non male insomma ho provato anche a venderlo ma non ci sono arrivate offerte come già vi ho detto ho speso un sacco di soldi so che non è molto realistico oddio un Milan che è arrivato in Champions League ha vinto il campionato ha vinto l'Europa League può permettersi di spendere tanti soldi ha sicuramente un tesoretto che è stato formato sia dai soldi che ci hanno dato la società sia dai soldi avuti dalla Champions League e dai vari trofei che abbiamo vinto e soprattutto dai soldi che abbiamo fatto grazie alle cessioni di quest'anno e dell'anno scorso perché comunque l'anno scorso avevamo un attivo di 30 milioni quindi in teoria abbiamo adesso in passivo circa 180 milioni che ci possono stare le finanze stanno a posto ripeto per un anno per questo mercato concedetemi di fare qualche pazzia l'ho fatta con Hazard l'ho fatta con Laporte però sono due giocatori funzionalissimi sono due giocatori che possono fare veramente bene forse l'unico acquisto di cui poi lo mi pento è quello di Luis Alberto perché alla fine potevamo puntare a qualcosa di più però insomma quel qualcosa di più ci sarebbe costato sempre 80-90 milioni e diciamo che poi spendere 550 milioni sono un po' troppi proprio per questo alla fine della fiera sono ugualmente contento di questo acquisto perché comunque è un giocatore eccezionale c'è anche Paketak che è un altro fenomeno e quindi sono contento del mercato sono veramente molto molto contento il centrocampo comunque già è stato migliorato parecchio con Savic e Ramsey poi c'è anche Kachan e c'è anche Kessi anche qui poteva essere fatto un qualcosina in più ma purtroppo nessuno ha mercato poi sono già tutti giocatori fortissimi e quindi c'è poco da fare detto questo ragazzi io spero che questo mercato vi sia piaciuto ripeto so che ho speso tanto forse anche un pelo troppo però mi volevo divertire volevo costruire una squadra fortissima anzi due squadre perché questo Milan ha due squadre e so che in alcuni ruoli tipo l'ala sinistra abbiamo due prime donne fra virgolette abbiamo Hazard e Lorenzi Zinni abbiamo due giocatori che vogliono assolutamente spaccare il mondo e giocare sempre titolari ma come avete potuto ben vedere nella stagione precedente abbiamo fatto un sacco di turn over quindi possiamo veramente permetterci di far giocare entrambe le squadre in qualsiasi competizione veramente mi fido ciecamente di tutti questi giocatori ovviamente un pelo meno di Fornals questo è ovvio detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete vi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e alla pagina facebook nel prossimo episodio andremo a vedere la partita contro il Real Madrid e poi a bomba con la stagione intera l'Inter la Champions League e via dicendo come sempre grazie per tutto e un saluto a Mec94 ovviamente anche da Football Manager Italia ciao ragazzi